Bene, bene ragazzi, benvenuti e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi ragazzi, come potete vedere, andiamo a dividenziare righe e colonne in base a una selezione che potrebbe essere di una singola cella come in questo caso qua o possiamo fare una selezione di più celle, ok? Bene ragazzi, possiamo evidenziare solamente la colonna o solamente la riga oppure possiamo evidenziare semplicemente la cella che è la nostra intersezione tra riga e colonna, ok? Tutto questo andremo a applicarlo non solo su un foglio ma su tutti i fogli di questo workbook. Infatti se seleziono questo foglio numero 3 vedete che comunque è stato applicato lo stesso evento anche su questi fogli qua, ok? Bene ragazzi, se siete curiosi rimanete sintonizzati fino alla fine di questo video qua. Bene ragazzi, ovviamente tutto questo lo faremo con una macro, però attenzione, una macro un po' particolare perché non è la classica macro che noi andiamo ad associare ad un pulsante ma è una macro che si scatenerà quando c'è un particolare evento e l'evento in questione appunto quando c'è un cambiamento, più che un cambiamento, una selezione di una o più celle, ok? Quindi andiamo a creare un evento. Per fare questo ovviamente andiamo qua nel nostro ambiente di sviluppo, apriamo il Visual Basic Editor. Ecco, l'evento che andremo ad associare lo potremo associare o su tutti i fogli, uno alla volta, oppure su tutta la cartella di lavoro nel quale ci sono tutti i fogli, ok? Quindi anziché fare decopia e incolla su ogni foglia andiamo ad associare direttamente tutto sulla cartella di lavoro. Qui nel nostro ambiente di sviluppo, dopo che ci siamo assicurati che qua è stato cliccato questa cartella di lavoro, andiamo a scegliere da questo minutenino qua l'unica opzione che abbiamo che è Workbook, cioè cartella di lavoro. Lui automaticamente mi dà una routine di tipo private associata localmente al nostro Workbook, cioè la cartella di lavoro, e vi dà l'evento Open, cioè la routine che andremo a scrivere si scatenerà quando noi andiamo a aprire, diciamo, la nostra cartella di lavoro. Però non è esattamente l'evento che vogliamo noi, ma vogliamo un altro tipo di evento, cioè l'evento di selezione di una cella o più celle. Quindi togliamo Open, oppure semplicemente senza correggere da qua andiamo a scegliere da questo minutenino qua tutti gli eventi che sono a disposizione, diciamo, contestualmente al Workbook. Quindi andiamo a scegliere, in questo caso qua, Sheet Selection Change, ok? Quindi la vecchia routine con il vecchio evento lo togliamo, abbiamo una nuova routine, Private Sub, è associata a Workbook, e dopo l'underscore mi dà l'evento. In questo caso qua, Sheet Selection Change, cioè un cambiamento attraverso una selezione di tutti i fogli all'interno di questo Workbook, ok? Tradotto un po' così. Ecco, qui se vogliamo avere un po' più tutto sott'occhio, come al solito, vi metto Excel sulla sinistra e il nostro Visual Basic Editor sulla destra, quindi qua possiamo anche stringere i progetti che non ci servono più. Ma cosa dobbiamo fare adesso? Beh, adesso dobbiamo fare in modo che, selezionando una cella, ad esempio questa qua, la cella C5, devo fare in modo che mi evidenzia con un colore tutta la colonna C e tutta la riga 5, ok? Bene, avrebbe da scrivere Range C5 e andiamo a fare Entire Column, Entire Row, diamo i colori. Però attenzione, non possiamo scrivere Range C5 perché adesso siamo nella cella C5, ma poi possiamo essere nella cella D7, oppure non so, A6, oppure non so, nella cella A2. Quindi non possiamo scrivere l'indirizzo di una cella, ma ci facciamo restituire l'indirizzo di una cella attraverso Target, per cui in maniera automatica. Ecco, in questo momento qua, Target sta dicendo la cella E2, perché ovviamente in questo momento qua siamo all'interno, la nostra cella attiva appunto nella cella E2, quindi qua io leggo E2, ok? Mettendo il punto andiamo a scegliere Entire Column, ok? Entire Column è la proprietà che, come la parola stesso dice, ci distribuisce tutta la colonna, quindi tutta la colonna in corrispondenza della cella E2, quindi la colonna E, ok? A questo punto mettiamo la proprietà Interior, che sarebbe il nostro sfondo, punto ColorIndex, che sarebbe il codice colore. Ecco, il codice colore vi consiglio sempre un colore abbastanza tenue, abbastanza chiaro, altrimenti non si leggerebbe bene. Quindi per cui mi sono preparato uno screenshot, che l'ho trovato su Google, basta scrivere ColorIndex VBA, mi sono preso questo screenshot dove posso scegliere l'indice del colore, ok? In questo caso qua sono interessato a un colore abbastanza chiaro, tipo ad esempio il numero 20 e poi magari anche il numero 40, ok? Quindi per le colonne facciamo un numero 40, ok? Bene ragazzi, una cosa molto importante, per eseguire queste istituzioni qua, verrebbe spontaneo a cliccare questo pulsante qua, Play, che sarebbe il nostro tasto funzione F5, ma ovviamente se ci clicco sopra vedete che non funziona, per il semplice motivo che questa routine qua si esegue solo attraverso questo evento qua, cioè il Selection Change. Infatti se clicco qua sopra vedete che adesso funziona. Lui cosa ha fatto? Beh, non ha fatto nient'altro a chiedermi, ok, la cella attiva è nella cella B4, quindi Target mi dà indirizzo B4, per cui nella cella B4 mi dà tutta la colonna, ok? Per cui la colonna B e mi dà il colore 40. Perfetto. Funziona bene sia per questo foglio qua, ma anche per gli altri fogli, ad esempio se clicco qua non so la cella è D2, vedete che mi seleziona tutta la colonna D, perché ovviamente siamo all'interno di questo evento qua, con Sheets Selection Change, per cui tutti i fogli all'interno della carta di lavoro, ok? Quindi se seleziono questa non so la cella qua, D12, vedete che funziona. Bene. Se per ipotesi io poi successivamente nello stesso foglio seleziono un'altra cella, ad esempio questa cella qua, la D8, vedete cosa accade? Beh, lui ha fatto esattamente il suo dovere. Però, attenzione, non mi ha tolto, diciamo, i colori, diciamo, dalla vecchia selezione, però io voglio fare in modo che, ancora prima di evidenziare una nuova colonna, voglio fare in modo di cancellare, diciamo, i colori alla vecchia colonna. Quindi cominciamo a fare questo? Beh, io metto un'istruzione prima, prima di queste istruzioni qua, metto ancora l'istruzione che mi permette di cancellare tutti i colori. Come facciamo a fare questo? Beh, richiamiamo la proprietà cells, cells vuol dire tutte le celle che ci sono dentro di questo foglio, punto, facciamo interior, che sarebbe il nostro sfondo, punto color index, e gli assegniamo quale colore? Beh, gli assegniamo xlnone, cioè nessun colore, ok? Quindi quando andrò a eseguire questa istruzione qua, prima mi pulisce e poi esegue. Quindi se io clicco, ad esempio, qua, la cella C8, vede cosa è successo? Lui ha fatto esattamente il suo dovere, cioè ha tolto il vecchio colore e ha messo il colore nuovo. Adesso lo stesso ragionamento lo facciamo per le righe. Quindi qua, semplicemente con un copio e incolla, ctrl C, facciamo ctrl V per incollare. E anziché column, entire column, facciamo entire row, anzi facciamo una correzione così, e mettiamo row come riga, ok? E anziché il colore 40, facciamo il colore 20, che era quello azzurrino, che tanto ci piaceva, ok? Qua gli diamo un po' di indentazione, e cliccando questa cella qua, vedete che funziona tutto bene. E ovviamente funziona anche per le altre celle, per gli altri fogli, ok? Vedete che funziona tutto benissimo. Bene, adesso ci sarebbe un'altra cosa che vorrei fare. Vorrei fare in modo che la cella attiva non abbia nessun colore, perché io vorrei che ci sia il bianco, perché ad esempio ipotizziamo di scrivere una formula, con un colore magari la formula non si leggerebbe molto bene. Quindi che cosa facciamo? Beh, in questo caso qua, aggiungiamo un'altra istruzione, scriviamo sempre target, punto interior, punto color, scusate, color index, e gli diamo, come abbiamo fatto prima, Excel non nessun colore, ok? E facendo così, come per magia, vedete che succede? Mi dà il colore della riga e della colonna, ma l'intersezione della riga e della colonna mi dà nessun colore, vedete? Andiamo ad un altro foglio, vedete che non mi dà nessun colore, perché rimane bianco, e questa qua sicuramente è una cosa positiva. Ecco ragazzi, se per una qualsiasi ragione siete interessati a evidenziare solamente la cella e non le colonne e le righe, beh, a questo punto qua non facciamo nient'altro che commentare le prime due istruzioni, ok? E qua l'istruzione che è riferita alla cella attiva, non facciamo nient'altro che dargli un colore, vediamo il colore, facciamo 25, un colore scuro, ok? Infatti cosa succede? Cliccando qua vedete che succede? Funziona tutto benissimo, ok? Ovviamente il colore scuro è sconsigliatissimo, perché se poi scriviamo qualche cosa proprio interno non si leggerebbe. Quindi magari è sempre meglio un colore chiaro, ad esempio facciamo il 40, che mi sembra che era un colore abbastanza chiaro, ok? Perché se poi io scrivo una formula, vedete che si può leggere. Insomma, se vedete che si legge abbastanza bene, ok? Quindi ragazzi, a questo punto io direi che l'esercizio è finito, facciamo in modo tale da chiudere tutto quanto qua, facciamo un salva, facciamo chiudi, e adesso ragazzi parte la scimmia, mi diverto alla massima potenza, andiamo a cliccare, qualsiasi cella, possiamo anche selezionare intervalli, ovviamente, è normale, ok? Quindi ragazzi, per oggi è tutto, spero che questo video qua vi sia utile in qualche modo, magari potrebbe essere interessante, se volete, se volete impressionare qualcuno, magari il vostro capo, diciamo, ah caspita, ma che bravo, ma che bravo, dopodiché, per oggi è tutto, mettete un like se vi è piaciuto, altrimenti un dislike, iscrivetevi al canale se volete, seguitemi sui social, e se volete mi trovate, dopodiché mi fa piacere se volete commentare anche il video. Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo video.